Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata. Bentornati in A Plug, Tale, Innocence. Siamo qui per vedere come proseguirà la storia dei nostri due giovani. E come sempre... E come sempre... Sigla! Prendili, prendili. Infatti, volevo fare. Guarda, lei che riflette sul gesto. Che cosa ho fatto? Amicia. Amore. T'accidete! Sai com'è? No, volevo prenderli questi assi. Ma tu aveva detto di prenderli? Eh, non l'ho fatta in tempo. Ah, sono arrivati alla chiesa, però. Esatto. Allora, siamo entrati in chiesa. Siamo nella chiesa. E dopo aver ucciso il tizio che ci voleva uccidere, che però era anche depresso perché aveva perso tutta la famiglia, da lì potremmo uscire. Wow! Why are the candles? The candles are... to show that you're thinking of someone. Oh! Can I light one? If you want to. Don't burn yourself. Thank you. Oh, per la mamma. Oh, per la mamma e il papà. Guardate per loro. Bravo, bimbetto. Bravo. Allora, lì c'è... Minerali, il svolto. Ciao! Hugo, ci sono persone qui. Oh. Vabbè, giustamente lui è un bambino. Oh, comincia il lutto, ufficialmente. Sì, alchimista. Giustamente è ora che abbiamo nella puntata precedente. Mi piace molto questa cosa da alchimista. Un po' come Black quando vediamo i filmori. Allora, io ho già visto da dove usciremo, verosimilmente. Sì, la scale, però c'è un po' qua. Oh, doni, attenzione. Quindi altre cose. E ne abbiamo già persi due. Verosimilmente. Rosario. Fatte di materiali semplici, queste collane fungono da guide per la preghiera. Estremamente diffusi testimoniano l'inevitabile ruolo della religione e della società. La religione... Come Salvini dimostra ogni suo comizio, mannaggia a lui. Scusate, sono scivolato dal politico. La religione promette ai credenti che le loro anime verranno salvate, fornisce ospedali... Ospedali? Ah, ok, la religione, ok, intende la chiesa in questo caso. Fornisce ospedali arredati e tiene regolari processioni e celebrazioni tutto l'anno. La chiesa, inoltre, dà la caccia agli eretici, condanna i profani e, in casi più seri, li scomunica, privandoli del diritto alla fede ed emarginandoli dalla società. Molto difficile leggere quando hai un microfono in mezzo. Oh, ma qui è chiuso. Ma tanto, c'è una scala che penso che dia nel cortile. Scusate. Perché gli sto scusando? Mi sta spadigliando. Ah, ok. Perché ha detto che è pericoloso, c'è un motivo. Forse è per la peste. Sì, secondo me sono... Ah, forse è stato un lazzaretto. C'è tanto l'ultimo. C'è tanto l'ultimo. Quindi ci sta. E saranno le prime cose che farò tra l'altro. Vincenzo? Ah, è vero. Che cos'è quello? Alcol. Bene. Vabbè, però 4 di 8, 8 sono un po', eh. Eh, però ne stiamo trovando parecchi, capisci? Bene, bene. Sì, è sempre... Possiamo fare... Sto dicendo sempre in coppie. Poi ho letto che il tessuto era uno e mi sono stato zitto. Poi... Però non ce l'ho fatta a tenere questo segreto con me. Le ambientazioni sono molto belle. Sì, belle. Che bella questa pazzia. Sì. Allora, il tizio è entrato dentro, ma noi prima luttiamo bene. Eh, certo, certo. Vecchia scuola. San Mitro. Anche questi. Nel mio erbario. Hugo, dobbiamo continuare a rinforzare. Prendi, aspetti, vieni qui. Che? Ci proteggerà e è bello anche. Che dolce. Allora. Ora possiamo andare. Grazie, Hugo. Sì, benvenuto. Oh, che dolce, ragazzi. Comunque è bello anche il loro rapporto. Loro, sì. Sono molto curioso di vederlo evolvere. Ah, roccia. Cosa? Abbiamo preso una roccia. Se prendiamo una roccia, vuol dire che una roccia servirà. Per fare il fuoco, magari. No, 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 rocce. Sono quelle che tiriamo alle genti. Ah, le pietre, allora. È la chiamata roccia. O forse sono diverse, in effetti. Potrebbe esserci differenza se tu hai letto pietre. No, boh, no, non lo so. Non mi ricordo. No, 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 no. Do you know him? Yes, yes, I know him. And I know he used to look after your family. He spoke of you. Now, I am Father Thomas. Your presence here is not a good sign. The Inquisition. They came and they... I can imagine. But what is happening here is far worse. You must leave immediately or you will die. Father, the villagers wanted to kill us. Oh, the mad, the mad. Oh, Laurentius, Laurentius. No, I cannot leave the church. But I have an exit through the crypt of the Tres Saints. It may not be too late. I shall try to put you on the path to Laurentius' farm. But after that, may God watch over you. Eh, non può lasciare la chiesa. No, devo prendere una roba. No, no, devo prendere una roba. Dietro, c'era roba da prendere. Troppo tardi. No, non mi hanno dato il modo di prenderla. Ma non mi hanno dato il modo di prenderla. Troppo tardi. C'era roba. T'era roba. It started with bites during the night. あぁ, la cossette spread. Femond in families, then to everyone. Bruttarobba La gente ha iniziato a morire E quando abbiamo finalmente trovato dove è venuto Noi Era già troppo tardi Enzi Dove è venuto? Siamo quasi là Oh, guarda le pareti C'è un sacco di attenzione Brutto Morell dovrebbe essere qui Siamo i due ultimi rimanendo Brutto Morell Stai qui Dov'hai? Stiamo per conoscere i topi Brutto Morell Beh, non è proprio l'ambientazione più rassicurante per un bimbo, penso No Oddio 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 Ornò da noi No Oh Mamma mia Oh Oddio Ma sono i brividi ragazzi Guarda 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 Ah Dio Dio Che schifo Che finaccia E stiamo per conoscere i topi Oh Caccio Segui il prete Stendi Ah ok Ragazzi Mamma mia Mazzate hanno passato E se credo guarda quanti sono Figata E quando escono dalle fottute pareti Escono dalle fottute pareti Brava Quale citazione è? Madonna Eh c'è credo Eh si Eh continua a muoverti Però è figo che seguono costantemente Cercano sempre di Oh eccolo l'altro prete Ouch Aggressivo Siamo avanti Siamo avanti Siamo avanti Siamo avanti No porno Siamo avanti Siamo avanti Siamo avanti Siamo avanti Siamo avanti Ma allora cosa? Siamo avanti Siamo avanti Ah troveremo un'altra torcia No devi prendere la torcia Eh no Non posso Questa non è una torcia Lì la farai probabilmente Dovrai correre Forse perché Da una zona Oh Cacchi cacchi Questa è una torcia Questa è una torcia Questa è una torcia Questa è una torcia Questa caccia Questa è una torcia Eh si però Mamma mia Eh devi prendere una torcia Come fai? Ah qui 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 No no ora devi aggirare il problema Perché al momento non hai una torcia Sta dinamica è figa Mette pure un po' di atmosfera in più Ora però Qua dobbiamo No 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 devi prendere Dobbiamo tirare di questo Scusate Non provate a guardare Non possiamo fare niente per loro Eh è vero Ecco Ma noi non possiamo fare niente Cioè non possiamo fare armi No al momento no Allora Da qui intanto forse non si può passare Secondo me è semplicemente chiuso Esatto volevo togliermi questo dubbio Per paura che poi Dicevo ho tolto Ho trovato la porta Prima Guarda che provano ad attaccare Prima di andare Cioè di rischiare Poi dovevo tornare indietro Ah qui non ci sono arrivati Strano che non ci sono arrivati No è come se qui c'è un po' di luce Quindi non ci vengono Senti i versetti che fanno Che brividi Allora Sal nitro Io recupero tutto quello che dobbiamo recuperare Sì Cuoio Lì Ah lì poi Il prossimo passaggio Un altro mi sa eh No 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 Solo uno Credo L'altro vedi è rotto Ah ora devi muoverti con la luce Ah con la luce Carine queste cose Sì sì Ah e poi lo devi chiamare Ah no scende lui Sì sì Scende lui Dammi una manina va Oddio Qua è un po' schifo eh Hai corrito Ah vabbè è abbastanza lento da E ma qui è buio Ah no qui non ci vengono in questa zona A quanto pare Povero Yugo Cioè credo che Cioè Non deve essere facile Oh Oh Per lui mantenere Adesso possiamo fare qualcosa Il silenzio Vediamo Abbiamo solo una cosa che possiamo fare La tasca La tasca Che è la capacità dei materiali A 12 arriva Esatto E lo facciamo subito Sì 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 È la cosa essenziale ragazzi La prossima è munizione Bene Non che finora si fosse Al massimo Punto Ah di qua Ok C'è un'altra stanza Non c'è un'altra stanza Oh oh Non c'è lì Oh no No Non vedo alcune torche Come possiamo Che ci farei Ah ma magari Gli dai degli L'antipasto Gli dai Attento Attento No perché di là C'è qualcosa da prendere Hai preso quell'oggetto Mamma mia Sì non ci metteranno Troppo Lo so A Prendere quel prosciutto Buono il prosciutto Ti ho dato da mangiare Ho dato da mangiare Buono Intressanti Quello ha detto la cripta Dei interessanti No Quindi stiamo andando là Vabbè già che c'è luce Madonna Mamma mia Sono magnali in popolo Sti ratti comunque Schifo vero Patti ragazzi Devi salire sui tavoli Forse Sì brava La prima cosa che farei Ragazzi Qui c'è roba a terra Devo trovare tutti i modi Di prendere tutto Ma non è che posso aprire Sté finest No No Forse no Sì ma c'è un bocino E su questo Vediamo in giro Tanto c'è sicuramente Qualcosa che possiamo fare In alto In alto c'era Forse qualcosa A parte tanto si vede Facilmente Tipo Ecco Tutti No Tutti no Qua c'è sicuramente C'è roba da prendere Quindi sicuramente Da qualche parte C'è un troppo Sicuramente le finestre Sì sì no Però le finestre Non le considera Vedi sì Ah no È il verde fuori E quella luce Quella candela là No No Quella è tutta altra zona Quindi Quindi C'è un bucolaio Vedi c'è un qualcosa Vedi c'è un bucolaio Non ci posso fare niente Ah forse ci può andare lui Eh no Adesso puoi scendere Perché questi sono Distratti Devo premere ripetutamente Ok Vai bimbino Vai bimbino E ora mi dà la torcia La vuoi lasciare Non sto più premendo Non sto più premendo No Eh però Missia Come Come mi fai tornare Siamo trovati Non preoccuparti As long as you have Io nuoverò Ah sì Dio quella parte Esatto Ma io voglio andare Prendere la roba giù Oddio Sei vicino a noi Ma io voglio andare Prendere la roba giù Stai buono Ah vedi Bravo E c'è credo Tranquillo Bimbino Voglio solo andare A recuperare Guarda che l'hanno fatto Un banchetto proprio No dobbiamo capire dove andare Che dove Ah da qua Però prima Prendiamo Ah qua posso Usare la torcia Così puoi spostare Così puoi spostare Quelle cose Esatto Non corre Quando c'ha La torcia in mano Però volevo giusto Fare un giro No ma Mi pare che hai preso tutto Anch'io penso Oddio Brucia Scompaiono Comunque La torcia Prendere la torcia Prendere la torcia Troverei una cosa Più intelligente Da fare Però Oh Dio 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 Hugo C'è C'è Dio Sì Eccolo 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 Ci sono I bastoncini Accendiamo Posso passare L'ama Prima Andiamo a Recuperare La latrina Latrina Avete cambiato Nome In latrina Prima era Bel ciasso Sono invena Dici taziano Questo Lo vedo No cambiamo Subito Subito Bastoncino Ah Vai Ah Accendi Qua Vabbè Lì Lo sono Prego E prendi un'altra Ma prima Io vado là Ah no Da là è da dove Usciremo Verosimente Lì c'è una cosa E puoi prendere Sì Ah Lì c'è un'altra Cosa E puoi prendere Visto No Visto che tanto Dobbiamo andare A accendere Tutti sti Cosi Che sono Caduti Dai Corri 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 Non posso Guarda R3 R3 Eh ma ci deve essere Il legno Da prendere Ah forse posso Correre fino a lì Aia Aia No Non posso Non posso Che morte brutta Ragazzi Davvero Lo è Lo è Lo è Ok ora abbiamo capito Comunque che quella dinamica È proprio Morte istantanea Ah ho capito No ma c'è un altro qua Esatto C'è un altro E questo è già Certo Esatto Ora Senso Ok siamo noi Scemi Cioè dove per noi Intendo io Che non guardi E nessuno dei due Che hanno da guardare Vai tranquilli Ragazzi A parte Potevo far bruciare A dare intorno Così Vediamo Ok Devi tornare indietro E attendere un altro Esatto Intanto butta questo E lo accendiamo direttamente Di là Certo Carinissimo Comunque dai Eh si Bulla di ancora una volta Complicato Impossibile Però almeno Una dinamica Influenza Comunque danno proprio L'idea Di Di cioccio Di Davvero Dovai Attenti Ok prendi la roba Sono un po' Scattosi Sì è vero Ora dovrò andare indietro Non possiamo andare su Ah forse perché ho lato Esatto No perché voglio vedere se su c'è qualcosa Perché in realtà dobbiamo scendere da qua Però io mi aspetto che abbiamo messo almeno un oggettino Qualcosa Devi raccontare Sì Oh Tavarlo del cruce Attenzione Allora Potrebbero essere anche in ordine sparso Mi pare strano che abbiamo già perso così tante cose Eh? Erbaglio di Hugo Sì Di Hugo E questo è il Il tabarro del crociato Ah sì L'ultima grande crociata ebbe luogo più di un secolo fa E la chiesa deve fare fronte a nuove minacce Malattie, carastie, guerra Le calamità spingono l'umanità verso la fede Questo bisogno di spiritualità Insieme alle innumerevoli perdite umane Costringono il clero a educare molti preti in tutta fretta Tuttavia alcune persone cercheranno comunque risposte nel paganesimo Nella superstizione e nella disobbedienza agli ordini L'altra volta avevamo trovato il fiore Non avevamo realizzato che in effetti ci stava aggiornando anche questo Perché era partita la cinematica Il garofano Che Hugo ci ha messo nella precedente puntata Fra i capelli È chiamato anche fiore di Dio Alcuni attribuiscono questo soprannome alla sua bellezza Altri alla leggenda Che ne fa risalire all'origine al sangue delle stigmate di Cristo O alle lacrime della Vergine Maria È diventato così simbolo di amore, passione e dedizione I suoi petali sembrano favorire la sudorazione La sudorazione davvero? Sì Per la cura delle febbri E se ne ricava un aceto per la pulizia dei buboni Contribuendo alla sua reputazione Good to know Tanto ringraziamo Black per l'ottima regia Che sta riuscendo a portare avanti E noi ci facciamo una corsettina A recuperare un attrezzo Gli attrezzi sono importanti Eh sì Eh sì Ok E si riscende This way Come on This way This way Come on Vai 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 Non si sa perché alcuni corpi le hanno puliti all'osso E altri le hanno semplicemente smangiucchiate Non tutti sono dolci e appetitosi Evidentemente Che schifo Sì beh Non è proprio la roba più bella del mondo Butta butta Quasi nel giro di Dio Eh la ti sa riuscire C'è credo che il prete non voleva che benissimo Un'ultima corsetta in mezzo ai topi Yugo Poi siamo fuori Chissà cosa si aspetta E mo Altri topi Oh altri potenziamenti R3 Oh grazie Possiamo fuori da qui ora Sì Far far away Far far away Eh sì C'ha ragione Non è proprio il posto più bello del mondo Vediamo se possiamo migliorare Oh la seconda tasca Priorità alla seconda tasca Sa che munizioni In buono Riduce il tempo necessario per raggiungere la precisione di tiro massimo Questo è interessante però Come sempre Meglio Tante munizioni Anche se mi sembra che finora il gioco ti metta sempre a disposizione tutto quello che serve Bene Sì 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 No di là non si può andare Quindi possiamo scendere Eccala Ah un altro Attenzione Questa è roba Lascia il monastero Comincia una fase diversa Cioè comincia qualche elemento di soprannaturale verosimilmente Perché? Beh Te la devi finire strane Eh boh Non lo so È la roba che ha mangiato il cane Dio ragazzi C'ho i brividi C'ho veramente La pelle Cioè i peli Irti sulla pelle Sì 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 Siamo nel loro nido Quindi lei dice l'hanno fatto i ratti Allora lì c'è una cosa dove possiamo andare Fammi vedere giusto sui qua Oggetti non ce n'è No è tutto chiuso Ah da zero vogliamo divertire Eh sì 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 Che schifo ragazzi Complimenti per le capacità architettoniche dei ratti però Che schifo Sembra quasi una visione da inferno Eh no non possiamo toccare i muri Ci credo stella c'è credo Altro che la peste Qua tu sai sai malattia Sì la peste una volta Corri Run Yugo run Eeeh Quanto me l'ho aspettato Corri al centro Che schifo Che schifo Che schifo Oh oh Ma c'eravamo alla luce Che schifo Comunque mangiano molto di più me Di Yugo Abbiamo un sapore migliore Sei più appetitosa Esatto Run Yugo run Poi sono andato poco poco a sinistra Allora mi hanno smangiucchiato il piedino E quindi mi hanno rallentato la corsa Era game over già a quel punto Ed eccoci nella nuova corsa Verso la morte Sì mi mantieni di spiegare E al centro devi andare Spregati 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 Che regia ragazzi Che schifo infatti Porello Davvero Eh poverino I don't want her to be dead You go I want her to come back C'era di Stavino Oh che tenerezza E finisce intanto il terzo capitolo